Parlare del caldo che fa in questi giorni non è il classico escamotage che si usa di solito per scambiare quattro chiacchiere. Il tema è davvero scottante. La Lombardia è una delle regioni più affose d'Italia e anche in Val Seriana le temperature sono oltre la media stagionale. I vacanzieri che arrivano dalla città comunque trovano la situazione incomparabile. Siamo arrivati ieri sera, insomma abbiamo trovato una temperatura che si riesce a dormire almeno. Quando siete arrivati? Ieri sera. Dormito stanotte? Sì, al fresco e anche alla bimba. Da dove vengo io? Qua è meno, provincia di Pavia, dove c'è il riso. Qui è meno, da noi si muore, qui si sta bene. È insopportabile, noi arriviamo da Milano, cerchiamo un po' di fresco ma sinceramente anche qui almeno però riusciamo a dormire. Le previsioni annunciano per questo fine settimana la possibilità di temporali sparsi per un rapido transito da ovest verso est di una perturbazione atlantica. E se qualche goccia d'acqua farebbe piacere l'importante è che sia per poco. La pioggia, si sa, infastidisce se dura più di un temporale. Nel brutto tempo ci si stanca subito, è prevista per stasera, stanotte ho sentito dire e oddio, basta che rinfreschi un pochino perché se ne vado è domani mattina sole. Intanto le soluzioni ci sono e anche piacevoli. Un tuffettino in piscina nella pausa lavoro, è come mi difendo, andando all'ombra, andando giù al molino dove pescano le trote, dove posso insomma. Non ci possiamo lamentare perché abbiamo l'aria condizionata. Le regole principali per difendersi dal caldo sono ormai i prassi, alcuni accorgimenti però tutelano la salute. Bisogna evitare sicuramente il mezzogiorno, le ore più calde perché se no il bambino si disidrata. A parte questo, l'importantissima è la reidratazione. Reidratazione vuol dire che bisogna bere molto, però non bisogna bere acqua, solo acqua. Vanno reintegrati quei sali che si perdono con la sudorazione, in particolar modo potassio e magnesio. Coprirsi la testa, il cappellino, il foulard. Dal punto di vista alimentare, frutta e verdura va benissimo, però l'importanza è l'acqua. Cioè proprio reidratare quello che si perde durante la giornata con questo caldo umido, perché noi percepiamo una temperatura superiore perché c'è umidità.